A volte le emozioni superano la realtà, a volte la finzione ci sorprende più di quanto la realtà stessa possa fare Oggi è un giorno speciale, oggi torna una serie iconica, una serie storica del mio canale E finalmente è arrivato il momento del FIFA World Tour, vi chiedo il massimo sostegno, lasciate un like, lasciatemi un commento anche scrivendomi quale prossimo episodio vorreste vedere Per fare questo ci ho messo un po' di più perché ho fatto fatica a trovare una categoria giusta di persone da prendere per il culo Sia perché ho pensato a un periodo in cui prendere per il culo delle categorie è molto rischioso Proprio per questo oggi andremo a prendere in giro non un'etnia, non un paese, non le donne, anche se lo facciamo molto spesso Ma andremo a prendere per il culo quelli che si hanno tantissimi capelli in testa Bella ragazzi bentornati finalmente qui sul mio canale Dopo delle settimane in cui incredibilmente sono riuscito a fare tutti i video che mi ero presupposto di fare Oggi siamo tornati con il FIFA World Tour Mille emozioni, mille gol ci aspettano ma soprattutto ci aspetta un grandissimo team Che senza perder tempo io andrei a presentare Diventato famoso per la facilità di nascondere la droga nei suoi capelli Braccio destro del cartello di Medellin Servizio d'entrega Ocio Se lui potesse portare un oggetto in un'isola deserta sarebbe un pettine Alcol, pidocchi e bamba Conosciuto come El Transportador Marcelo Famoso per le sue skill da barista di strada Nei giorni buoni raccatta dai 5 ai 10 euro, a volte anche delle bambine El Mendigo Davi Luis Problemi psicologici, problemi di famiglia, problemi di memoria Pensa a un problema, lui probabilmente ce l'ha El Problematico Puyol Corre, più veloce di Trenitalia, con lo stesso ritardo corre sulla fascia come un gheppardo El Enfermo Fossei 8 coma etilici, 6 ricoveri per rissa, 12 ossa rotte, 14 omicidi e 67 donne castigate El Criminal Witzel Mai avuto dei genitori La leggenda narra che nacque da una nube di gas Figlio degli iddai del calcio El Predestinado Quindusi Ti dice che i suoi capelli possono creare un campo di forza tale da disintegrare quello che c'è intorno a lui El Peligroso Chioduri Corre, 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 corre e basta Se finisce il campo non gliene frega niente Lui va sempre dritto El Anverso Sunny Legenda della criminalità si dice che una volta morto verrà sepolto in un sepolcro di pietra El Santo Ugo Sanchez Sempre in prima fila il Branca Leone Favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere ma utilizza anche quelle pesanti a volte El Toxic William Questo è il team che ci accompagnerà durante l'esperienza mistica di quest'oggi Tutti belli capelluti Però abbiamo ben due leggende che ci accompagneranno quest'oggi Quindi senza perdere tempo buttiamoci nel primo match nella speranza che la nostra incredibile squadra riesca a vincere Tutti i game in caso non ci riuscissimo Outredo GG Ci avevamo provato Prima Camaror E che cos'è? Va bene noi non abbiamo paura Anche lui ha il capellone ma noi ne abbiamo 11 quindi in realtà la paura non esiste all'interno della nostra squadra Let's go super capelloni Vediamo un po' come vi gestite Allora ovviamente la mia squadra non ha un'intesa massima ma comunque c'è Capello Che fai matto? Va bene Portiere perché non esce? Allora qua lo buggeriamo un attimo che andiamo di là Abbiamo la possibilità di andare avanti comunque Eh a coglione Gwendo si che è campione con tutti i capelli Let's go Let's go Ancora Gwendo Scucchiaialo Azzì Gwendo Azzì Gwendo La forza dei capelli Guarda quanti ce ne hanno in testa Nozzi 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 Madonna santa che è campione Azzì guardate questa Stunk Peccato Occhio Ui la madonna come si è girato Troppi capelli in testa per essere buggerati così da dei pelati Lì Allora si stiamo un a zero quindi in realtà La situazione è pericolosa ma potremmo farne un altro Frate Era l'azione del millennio Si stavano strappando i capelli Bravo Ma che fa Campo di forza Faro il gioco refri Madonna quanto Fanno attacchi Lo puoi vedere Lerua sanè A coglione Fallo te prego Schiudila lì Schiudila lì Ugo 28esimo 2 a 0 Grande Lerua Per Ugo Sanchez Cattivo al punto giusto Ma l'importante è non fa troppe cazzate Che se fa me cazzate Che fai me copi le skills Guarda che so buono pure a fare le skills A coglione Questo 3 a 0 quitta Scommetti Se quitta la tengo eh Perché questo c'ha il super squadrone Non me ne frega un cazzo Anticipalo Farà di testa L'ha parata coi capelli Va benissimo Questo di testa le prende tutte E' imbarazzante la situazione del videogioco Io shudri Cazzi shudri Refri Carcio di rigore Messa che sul 3 a 0 Questo ci abbandona Veramente in modo aggressivo Te posso dire mia Allora qua gli fai Guarda tiro a sinistra Ma in realtà In realtà tiri a destra Shuduri Ce l'ho duro Ce l'ho duri Guarda che campioncino C'ha più capelli De tutti quelli che C'ho avuto io in vita mia Lo vedi Ok puoi ricominciare Tranquillamente Lo vedi al centro lì Benissimo ragazzi Che gioco Eh addio Madonna Meno male che è un pippone Va bene Nel fine di primo tempo 3 a 0 per i capelloni Ah raga ve lo dico Se qui la tengo eh Non me ne frega niente Non siamo nel FIFA obiettivi Capelli a obiettivi Secondo tempo Puoi iniziare Schilla un attimo Allora diciamo che adesso La gestiamo Attendiamo Facciamo una partita di attesa In realtà Occhio Occhio che siamo ancora in Carles Con calma Con calma Chi c'è cuore dietro Nessuno c'è cuore dietro Sanè 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 Sono coglione Ho sbagliato tasto Ho sbagliato tasto Ho sbagliato tasto Nello stretto Che azione Che azione Che azione Si detacco No No Ma che ha fatto Si è inceppato Ma che sta succedendo L'azione è quella giusta Cucchiaietto Ah si ma lascia perdere Ma quitta il gioco Finiscila qui Ti saluto Ti saluto E il primo Se n'è andato Secondo match Tutti innamorati di Robben Mi fa molto piacere Anche di Mbappé Neymar Va bene Scuole sempre più forti Della mia Ma non è un problema Noi abbiamo La potenza Dei nostri capelli E dei pidocchi Cosa che Robben Non ha Let's go Può iniziare questo secondo match Vediamo un po' il ragazzo Come si comporta Già fa degli elastici Ma c'è Guendusi Che ferma Mbappé Non l'avrebbe mai detto In vita sua Non l'ha mai fermato O è partito già Vabbè si Guendusi Guendusi dopo aver Cucchiaio di nuovo No che ha preso Chi c'ha in porta Gesù Cristo Peccato Con calma Che troppa calma Ragazzo Ma Guendusi Quanto ci ha messo A capire Madonna Chioduri top player Prima Vediamo adesso Se riesce a fare Qualcosa di decente Chioduri Chioduri Lo vedi No fuori gioco Che cazzo Comunque faccio Una quantità di gol Chi è entrato È uscito Cantè per Che si Occhio Portierone Miracoloso Occhio e carci d'angolo Che come abbiamo detto prima Non ne prendiamo neanche una Di testa Vai al centro Gol Madonna santa Runei di testa Ma che passaggio è Ragazzi Refri Regolare Bravissimo No e dai ragazzi Passaggi Santo il cielo Non vi chiedo tanto Vi chiedo di fare i passaggi Dritti Umiliato Neymar Chioduri Può partire Corta qui Lunga lì Occhio Madonna portierone Basta 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 Vi prego Vi prego Basta 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 Rimpalli Dai 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 Ho già fatto un pezzo fantastico Ah si sul primo palo Non l'hai neanche vista Viz è lui I suoi capelli La sua gioia La sua potenza Lui e la sua mamma È un mucchio di capelli Una 0 gg Allora dovremmo fare il secondo call Di sicurezza Così giusto per farlo Magari con uno Chioduri selvatico Che si inserisce Tipo adesso Oh Oh Bravo Ah Peccato Dietro No Chioduri Mortale Eh si ci ha messo 20 minuti Per capire che aveva perso il pallone Ma ci rendiamo conto No si sono allargati Miracoloso Avendo un Bappé a centrocampo È dura Dov'è il mio centrocampo? Bene Bene fine primo tempo 1 a 0 per noi Partita equilibrata Mi sta piacendo molto Chioduri nel game Satan Cup Io a satana Cracco Let's go Let's go Eh si vedi vanno in attacco tutti quanti Ma perché? Capisco che è un 4-3-3 violentissimo eh Però se ti dico torna in difesa Ma Gesù Cristo Ma vorrei mai tornare in difesa? Lo vedi? Hugo mortacci tua Sei una leggenda del calcio Bello? Bello? Basta sti cucchiai Madonna Levatemi il tasto per fare i cucchiai Regà vi prego Levatemi il tasto per fare i cucchiai Levatemi il tasto per fare i cucchiai Porco 2 quanto corre Madonna eroico Bravo Appoggia Bravissimo Te prego fallo Non ci posso mai credere nella mia vita Che fa schifo Una merda Una merda Una merda La mia vita è una merda Sesamo magnate il gocchio E chiude la partita Che occhio eh Che questo c'è buggerà L'ultimo secondo Guarda Guarda che passaggio gli è entrato Vor di una cosa sola Significa una cazzo di cosa sola Quello è rimasto fermo Non so se l'avete notato Alessandro Onesta 7 minuti al termine Sappiamo che il mio rapporto Con gli ultimi minuti Non è il top Con calma Cioè non è possibile Che stanno tutti in attacco O tutti in difesa Mi fai far 2 a 0 Refri Finisce qui però Refri 1 a 0 per noi Ottimo Secondo match Portato a casa Con un sudore mai visto Raga Ottima prestazione Da parte della difesa Ultimo e decisivo game Shiraz United 4-4-2 Premier League Molto classico Fortunatamente Nessuna leggenda strana Inizia qui L'ultimo e decisivo match Per non fare una figura di merda Troppo grande Anche se in realtà Non l'abbiamo fatta Perché abbiamo 22 su 2 Con un quit Oh dai Allora questo mi sembra Un po' a cazzone Quindi mi sa che gliene Famosetto 8 Mio dio Quel giocatore lì Il più capellone Ma la sorpresa Del videogioco Dobbiamo solo stare Molto attenti A non subire il primo gol Perché se subisci il primo gol È dura recuperare Questa squadra Porca troia Eh non volevo Sì mi ero imbarsata Addosso la palla Il mio tasto era stato Premuto prima Neanche giallo Giusto così Guarda quanti capelli Ce stanno in barriera Cioè guarda La barriera è un tappeto Bravissimo Gio Mi sono sbagliato Ho provato a muovere Il portiere In una maniera Devastantemente sbagliata E no eh Bravissimo Portiere No perché stavamo Rischiando la debug Così no Avrei retta Refri Ma non è che Se è sciuto Durì Che può nomenare Ma che fa Quanto ci ha messo Ma che sta facendo Ma quanto Ma che ha la velocità De sterling Ah sì ma Fosse i riesci No Te prego Eh no sì Però sti coi sbagliati Non vanno bene Cioè già siamo undici pippe Se si mette ma sbagliata Sta roba Ma che famo Non è finita Fin quando l'albio non fischia Quindi comunque Occhio che cross al centro E infatti Go Oddio sì ma le sta liscia tutte Cosa succede? Eh un'altra cazzata Volevo fare? Che dici? Bravo Ah sì Maradona Chi è? Vitzel di nuovo? Ragazzi Vitzel ha fatto Un'azione degna Del Pibbe È il Pibbe De Borussia In panico In panico L'abbiamo recuperato Al quarantacinquesimo Giusto così Forse ci fa far l'ultima Veloci Veloci Io ce la fa far sul serio Ah sì Non sbagliarla Che la riudiamo così 2 a 1 Grazie FIFA Che ci fa continuare Oltre il tempo limite Dato dall'arbitro Hugo Sanchez La rimette in piedi 2 a 1 Ricominciare questo incredibile match Guarda Fossei Contro Sterling Regà Fossei È un bronzo Un po' di spettacolo Per il frittella Che però Non riesce a No Amatto Ma no Shoduri No È impazzito Si è mutinato Shoduri Arvolo Shodu Mortacci tua Settantesimo Meno Cucchiaio È finita È finita È un altro rage quit Questa è veramente dura Da sostenere Ci abbandona il ragazzo Che ci devi fare Certo Se non quittasse Sarebbe veramente favoloso Rispetta le preghiere E non esce Refri Madonna Regolare Ma sei matto 5 minuti a termine Occhio a Puyol Contro Rashford Puyol Rischia tutto E prende una rimessa laterale Che è d'oro Parti Ugo No Fammi fare il 4 a 1 Refri Ah sì Tripla vittoria Con i capelloni Bene signori Spero che questo video Del FIFA World Tour Vi abbia entusiasmato Vi sia piaciuto Una squadra che secondo me È molto forte Se volete utilizzarla Ovviamente il mio sogno Sarebbe stato utilizzare Che ne so Bullit E altra gente del genere Maradona Ti è Però purtroppo non ho Il cash Il cash E non ho i soldi Per comprarmeli Magari IaSports Me li può regalare IaSports IaSports Te faccio una serie Che non ha mai fatto Nessuno un beat a tua Noi ci sentiamo Alla prossima Che sarà lunedì Con il Dread&Breakfast Grazie di aver seguito Questo video Ricordate di lasciare un like Con commento Ma in caso Se siete arrivati Fin qui Commentate con Daie Shoduri Ciao Noi ci sentiamo Noi ci sentiamo Noi ci sentiamo Noi ci sentiamo Noi ci sentiamo